benvenuti in questa guida top 7 aerei telecomandati di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative partiamo subito al settimo posto troviamo share place aliante fresco come vero la scala ridotta in base al vero aliante design a due canali facile da controllare l'aereo adotta il materiale antiurto e pipì vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge 4 stelle 4 stelle per l'offerta del momento un'estrema quantità di funzioni risulta tra i top nel rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 75 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo amy 1884 992 motore regolatore servo g installato alette di atterraggio regolabili opzionalmente rapporto di spinta 11 buone caratteristiche di volo ecco cosa pensiamo una qualità generale discreta imbattibile l'offerta a prezzo scontato nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle in definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 76 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo gulski mnd 90 struttura modello professionale scala 112 del defender che una jeep di propriet della land rover con grandi dimensioni colore brillante vediamo la nostra valutazione nella qualità generale diamo 3 stelle interessante l'offerta con caratteristiche quasi al top ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare oxwork può volare subito e facile da imparare dotato di un sistema di stabilizzazione automatica questo aereo telecomandato facile da usare e da p vediamo il nostro parere una qualità generale buona imbattibile l'offerta a prezzo scontato con caratteristiche quasi al top con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo maker fire aereo versione ready to fly viene fornito con tutto il necessario per volare incluso un telecomando da 24 gigahertz aprilo e gioca con i bambini vediamo la nostra opinione la qualità generale raggiunge 5 stelle buona la promozione nelle caratteristiche diamo 3 stelle sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 93 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo su ai fx 635 aereo telecomandato l'aereo telecomandato pronto a volare velocizza il caccia aereo telecomandato il velivolo telecomandato non ha bisogno di ecco la nostra valutazione qualità generale davvero soddisfacente proposto a super sconto con particolari caratteristiche nel complesso un buon rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 96 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica oxwork pu volare subito e facile da imparare dotato di un sistema di stabilizzazione automatica questo aereo telecomandato facile da usare ed api ecco il nostro parere la qualità generale raggiunge 5 stelle proposto a super sconto con ottime caratteristiche eccezionale il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 94 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti